Erminio Rullo, allora una gara perfetta qui a Matelica, un 3-1 che vi consente l'accesso alla finale, dei play-off per la promozione in Lega Pro. Sì, abbiamo fatto una grande partita, noi eravamo tranquilli e consapevoli delle nostre proprie forze, magari qualcuno altro, forse la maggior parte delle persone ci dava per spacciati anche oggi. A me piace smentire tutti e andare fino alla fine, siamo un gruppo unito, un gruppo che ha voglia di emergere, di fare bene e i risultati ci danno ragione. Ecco, ci tenevi in maniera particolare ad essere presente a questo match, hai rinunciato anche ad un evento familiare per essere presente qui oggi a Matelica. Sì, infatti voglio dedicare questa vittoria a mia figlia Aurora che oggi ha fatto la prima comunione, ci tenevo perché ci siamo guadagnati questa finale dal primo giorno che sono arrivato. Non mi sembrava giusto lasciare i compagni e perdermi questa gioia. Poi con mia figlia avrò il tempo di recuperare. Tra sette giorni si va a Pesaro, da quello che ci dicono l'avevi speso l'abbattuto il San Nicolò. Ecco, che agnone, insomma, con quale spirito si andrà a disputare quest'ultima gara? Con uno spirito battagliere come sempre, come abbiamo dimostrato oggi, su un campo difficilissimo. Partiamo con il sfavore dei pronostici, però ripeto, noi andiamo lì per giocarci la partita e per scrivere un'altra pagina importante di questa squadra.